Comperdi gara 2, categoria B, primo classificato come in gara 1 Giuliano Ageli con 50 e 52, secondo classificato Andrea Ballabbio come in gara 2 con 51 e 0,7, quindi con un distacco di 55 centesimi che riduce lo svantaggio registrato in prima manche di ben un secondo e 27. Vi starete domandando perché non li vediamo appagliati sulla stessa porta, il motivo è molto semplice, purtroppo non abbiamo il video della porta precedente di Andrea, che è quella dove sta Giuliano, Andrea dice che, e non abbiamo motivo di non crederli, conosciamo la sua sportunità che è tanto alta quanto la sua aggressività e il suo agonismo, ha agganciato il palo precedente con il braccio, che è quello dove sta Giuliano, tirando giù il telo. In effetti sono andato a controllare, quando è sceso Lucio Lamberti il palo, il telo era ancora su, poi è sceso Andrea, poi è sceso Massimo Ferraro e il telo non c'era più, poi Giuliano Ageli e il telo non c'è più. Quindi lì, quando è passato Andrea, sicuramente qualcosa è successo. D'altronde anche la sua posizione su questa porta, che è quella immediatamente successiva, che non è proprio consola nella sua sciata, denota una ripresa da una qualche incertezza dovuta probabilmente a questo aggancio del palo. Quindi portiamo avanti il nostro amico Giuliano, lo appaiamo sulla porta rossa con Andrea, direi che sono appaiati. Vedete che appunto Giuliano è più pulito su questa porta, Andrea è un po' sbilanciato, quindi qualcosa deve essere successo. E vediamo in queste porte se Giuliano ha maturato qualcosa di questi 55 centesimi o meno. Quindi facciamo partire il compare vero e proprio. E' interessante vedere la pulizia e la potenza di Andrea in queste porte, forse Giuliano un pochino più leggero come sciata. E in effetti vediamo che su questa porta rossa, quindi in poche porte, Andrea ha preso un discreto vantaggio su Giuliano, quindi probabilmente effettivamente c'è stato un bel problema su quella porta dove lui si è agganciato, paradossalmente magari gli ha dato quella frenatina che gli ha consentito su queste porte poi di guadagnare qualche cosa. Comunque è interessante questo testa a testa. Continuiamo ad andare avanti. Entriamo nel piano. Vediamo Andrea sicuramente più determinato che in gara 1 e giustifica quindi la riduzione di questo svantaggio registrato in gara 2 nei confronti di Giuliano. E che cosa succede? Succede che su questa porta blu, alla fine del piano, in effetti Andrea è addirittura in vantaggio. Vediamo di quanto. di 12 centesimi. Non è tantissimo, però considerando che in tutta la gara avrebbe perso i 55, evidentemente quello che è successo in quella porta blu l'ha rallentato, evidentemente andrà ritrovato la sua testa in questa gara 2 e non possiamo fare altro che aspettarli entrambi in gara 3 e magari chissà, ci sarà anche un terzo incomodo. A presto! Grazie a tutti!